È un progetto che parte già da diversi mesi fa quando l'assessore della sicurezza era Riccardo Polsi che continua insieme a me a coordinare il progetto. È un bando del Ministero di 287 mila euro che coinvolge tutte le istituzioni, dalla Prefettura, alla Questura, alla Croce Rossa, alla Polizia Locale e vuole sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale, dei poricoli che si corrono magari facendo uso di sostanza o esagerando con gli alcolici. È un progetto a tutto tondo che in qualche modo coinvolgerà le scuole, coinvolgerà gli artisti e avrà una sua giornata finale al Parco Miralfiori, un contenitore che vogliamo valorizzare, quindi anche questo evento avrà come palcoscenico il Parco Miralfiori e ci auguriamo di avere in questo periodo di interventi tanti ragazzi che parteciperanno con entusiasmo e che riusciremo poi tutti insieme a trasmettere un messaggio positivo. Un progetto di squadra che nasce durante i mesi della pandemia, quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri emana un bando per riprendere quell'attività di informazione e sensibilizzazione per prevenire nei confronti di un fenomeno che abbiamo visto purtroppo essere tanto attuale, quello dell'incidentalità stradale correlata all'uso di alcol e di droghe. Abbiamo quindi sviluppato sin da subito insieme a Croce Rossa e gli altri partner che sono la Prefettura, l'Università di Urbino e l'Unione Pian del Bruscolo, un progetto proprio rivolto ai ragazzi, in particolare delle scuole superiori e dell'università con una serie di iniziative volte a informare, formare e prevenire. E quindi andremo anche a fare un'attività, se vogliamo, emotivamente forte e d'impatto per cercare in qualche modo di stimolare quel tipo di cultura di attenzione nei confronti di un fenomeno purtroppo, come dicevo, ancora attuale. È un progetto di tipo integrato e ritengo abbastanza innovativo perché va sul campo esperienziale, cioè vogliamo suscitare una reazione in questi studenti e una riflessione, come dicevo prima, per alzare un po' lo sguardo su quello che possono essere le conseguenze delle nostre azioni, in questo caso mettersi alla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.